No, non riesco a dormire questa sera, non posso dormire questa sera, devo pregare certo tanto, oggi ho letto della sentenza di Romeo e non si può dormire, Tina, Godomenico e i genitori sono sempre stati grandi fin dal primo momento e nell'intervista che sentivo stasera diceva forse ho perdonato fin dal primo giorno, certo che ho perdonato fin dal primo giorno perché fin dal primo giorno non hanno mai chiesto vendetta per l'uccisione di Romeo perché un'uccisione non è una cosa capitata per caso in una rissa e hanno sempre perdonato però noi cerchiamo giustizia, abbiamo bisogno di giustizia non ne ha bisogno Romeo, ho avuto in questi mesi più volte segno che Romeo paradossalmente forse proprio grazie a questo sta bene e sta cercando di aiutare i suoi amici che si lasciano aiutare da lui perché non tutti si lasciano aiutare da lui parla di non violenza, non cerchiamo giustizia, vendetta però è giusto aiutare le persone a reintegrarsi, a fare un cammino e faccio tanta fatica, io faccio tanta fatica a comprendere come in due anni di volontariato si possa recuperare una cosa del genere, io faccio tanta fatica a credere quando le cose non vengono dette con chiarezza, se a un ragazzo gli dici non fa nulla lo stai trattando da poco intelligente, lo stai compatendo e i ragazzi non vanno compatiti ragazzi il nostro signore mi ha insegnato a dire io ti perdono perché hai fatto una cosa bruttissima ma io ho pagato per te e qui manca chi si faccia carico di queste cose forse è un po' troppo facile far finta di nulla così non lo so, io faccio fatica a capire ma una cosa certamente io voglio chiedere scusa ai nostri ragazzi perché noi adulti mandiamo messaggi brutti non si può uscire di casa con un coltello che non è il coltellino non si può uscire di casa e tenerlo in tasca così non si può durante il lockdown spostarsi da una parte all'altra andare a cercare delle persone e poi ritrovarsi in questo modo non si può, non è giusto e ci vuole un congruo tempo per ripristinarsi la punizione non è una cosa brutta soprattutto se è fatta con amore e se è fatta al fine di far crescere le persone privare i ragazzi della punizione significa privarli di un senso di giustizia riparativa che ripara una pena, ripara un delitto al resto ci penserà il Signore lo ripeto, Romeo non ha bisogno di giustizia no ma noi sì noi sì i nostri ragazzi hanno bisogno di giustizia per avere dei parametri per imparare ciò che è bello e ciò che fa male ciò che su un momento ti esalta e poi ti abbassa e ciò invece che su un momento è amaro è tosto da vivere ma che poi dopo ti robustisce e il centro anche per questo ragazzo e per i suoi amici subito perdonati dai genitori è vivere una vita che è maturata in questa situazione essere compatiti non fa bene a nessuno priva i uomini della loro dignità non lo so forse devo studiare meglio questa situazione e devo capire meglio pure le parole forse che dico questa sera sentivo il bisogno di di esprimere un abbraccio davanti a tutti proprio per Tina e Domenico e di ringraziarli perché il dolore di una mamma che la porterebbe a chiudersi l'hanno superato tante volte per amore dei ragazzi e i ragazzi sono il centro della loro vita e sono quelli che gli daranno speranza che gli daranno il sorriso e daranno anche un po' più di senso a una morte assurda che senso non ne ha però questo video è soprattutto per i ragazzi perdonateci ragazzi ci metto la faccia d'adulto l'adulto cittadino della nostra Italia che ancora deve tanto crescere su questo sulla capacità di intervento educativo perdonateci ragazzi se non vi siamo di esempio perdonateci ragazzi se tante volte vi scoraggiamo capisco che forse anche voi fate fatica a capire questa sentenza proverò anche io un po' a studiarla meglio perché non sempre le cose che non si capiscono non sono buone forse c'è qualche dettaglio che sfugge certo però il sistema ci sembra tanto lontano dalla realtà e soprattutto tanto lontano dalla vicinanza che dobbiamo ai nostri ragazzi in questo tempo vi prego non lasciatevi prendere dalla rabbia o dalla vendetta piangiamo questo dolore insieme come l'abbiamo fatto tante volte ma ringraziamo il Signore che ci dà l'ospettiva un po' più grande e Romeo l'ha dimostrato che lui non è morto è vivo lui non ha bisogno di giustizia e noi anche se questo mondo è pieno di ingiustizie cerchiamo di recuperare con l'amore e con la vicinanza tra di noi fermiamo ogni violenza portare un coltello in tasca significa essere pronti accettare la possibilità di poterlo usare contro qualcuno in un attimo di violenza soprattutto per chi ancora non sa gestire bene se stesso e soprattutto il minorenne è così non pensate che questa sentenza voglia dire il contrario almeno lo spero un abbraccio a tutti e continuiamo a cercare di mettere un po' più di luce in questo mondo anche sapendo che per il resto quello che noi non lo faremo lo farà il Signore almeno a Lui affidiamo però cerchiamo di dare il meglio di noi perché quello che facciamo qui su questa terra risplenderà per l'eternità quello che qui non facciamo con la colpevolezza di chi volutamente non dà il meglio di sé purtroppo sarà un buco che ci resterà ciao Romeo continua a darti da fare con tanti altri nostri angeli dal cielo tu non hai bisogno di giustizia ma aiuta noi che ne abbiamo bisogno della giustizia e della misericordia che solo insieme si sostengono grazie a tutti grazie a tutti